Musica Bello ragazzi e ben tornati in questo mio nuovo video Signori siamo tornati finalmente con il decimo episodio Da Road to Commander Già stavo per morire Siamo tornati signori finalmente con un nuovo episodio Della settimanella La domenica Ottimo prima uccisione da Road to Commander No ci spostiamo un attimo da sta casetta però Sta laggando in modo molto brutto E non capisco perché Bella sta doppia Quasi doppia Sta accisola e mi ha rubata Che cazzo è successo? Segnale tattico nemico online Non siamo più al comando Bella bravo tu Bello fra Madonna ma che arma è? Lo squat Serve un'uavvia alle mie coordinate Mamma mia regà Cioè sto a fare devasto lo start Ma non vedo l'ora di sbloccarla Se si può sbloccarla Stiamo perdendo Eh vabbè da dietro Lo sai proprio che tanto spona uno da dietro Non è capo che prende le headstorm Pensa che bello Cyborg terminato Uccisione confermata Ecco lo squat RFST Bello fra Bellissimo infatti Belle ste doppie Comunque Siete proprio che siamo tornati Con il run to commander Moreno Profit cancellato Ma porco tu Porco Profit individuato Siamo in vantaggio Eh vabbè Questo è molto ravvicinato L'MX9 RINFORZO TATTICO DISPONIBILLE Uso un dato Soldato fuorigioco Ma mia Newtown quanto cazzo Niente oh Quanto è bella per Newtown Vabbè dai vabbè Io sono entrato in bocca Cioè porca miseria E cos What Vabbè UAB ostile in sorvolo Era bruca Vabbè Cosa cosa Con il canale Autorizza lancio Ayrstone Siamo al comando Asci tua I nemici hanno attivato UAV Multipli Eh va bene Va bene Faranno 3000 colti al minuto Non siamo più al comando Siamo in vantaggio CUAV ostile rilevato Uno Nooo Vaffanculo Stavo a fare una tripla Uccisione Uccisione Una bucchina Mamma Attenzione E attivo Un segnale Tattico nemico Sarò spietata Yes Da un attimo Il seraf Va No no Ruina Terra Uno Attacco L'agent Segnale Incappo No dai Dai Cioè non l'ho boccato Quella Manco la specialità Ma con sta tripla Nooo Era la tripla Della storia più bella Dei cod Forse usciva pure La quad feed Nooo De poco Mi ha preso solo la testa Perché mi stavo abbassando Sta puttana Eh vabbè Stava ricaricando Non potevo fare Stiamo 86-82 Dai alle scout Così signor Dai regà Dacci tua Oh Un avvio Stile insolvolo Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene No regà Ci stanno a cambeccare Non ci cambeccano Sto pezzo Che merda Tutto finito Prega impossibile 96-95 Dai per favore Vinciamola Per favore Vinciamola 96 pari 96 pari Come cazzo è possibile 98-97 Sì che la vinciamo 98-98 Noo Vittorio Sii Mamma mia È pure radio 2 2.07 Che cacchio Mamma mia una partita Raga fino all'ultimo Io sono stato il 99esima Uccisione chiaramente Comunque raga io spero che questo video vi sia piaciuto Lo so che abbiamo fatto una partita ma Devo farlo uscire Entro domani e domani veramente non ho il tempo Di editare quindi lo devo editare stanotte Lasciate un bel mi piace Un commento raga raggiungiamo i 5 Mi piace se potete supportare il rotu commander E niente raga noi ci vediamo Con tanti nuovi video qui da Champ E' tutto Noi ci vediamo la prossima che sarà mercoledì Con la live e poi mi preparo bene Per magari un vloghetto Bella raga